Musica Legnano, sappiamo tutti, che è nata su una via di comunicazione di acqua, che era l'olona, ma anche sul Sempione. Il Sempione, che è un'antica via di comunicazione che c'è in Italia settentrionale, che da arteria romana diventò una via napoleonica, quella che da Milano porta a Parigi. Musica Dopo il ritiro dell'ultima glaciazione, che è risalente a circa 30.000 anni fa, l'ambiente naturale delle vallate alpine divenne più ospitale. Fu allora, intorno all'8.000 a.C., che cominciarono ad infiltrarsi in esse le popolazioni sino allora che erano stanziate nella pianura padana. Durante l'età dei metalli, cioè nel secondo e terzo millennio a.C., parallelamente ai primi insediamenti stabili, ai piedi dei monti e nella pianura padana, si formarono le prime e permanenti grandi direttrici di comunicazioni, tra i villaggi prealpini e alpini e le grandi città della pianura. In epoca romana le arterie stradali da Milano erano molte, di cui le più importanti erano la via A. Emilia e la Postumia. Nel settore occidentale c'era Mediolanum, che in epoca tardo-imperiale svolse un'importante funzione strategica come nodo stradale, da cui partivano le vie transalpine verso l'ospluga, Cuneus Aureus, il gran San Bernardo, Summus Poeninus, e il piccolo San Bernardo, Alpis Graia. Fra le strade di minore importanza vi era la Mediolanum Verbanus, che partiva da Via Meraviglia a Milano e terminava a Stationa, che è l'antica Angera, consentendo a viandanti e truppe militari di raggiungere la vicina Svizzera via Lago. Il percorso della Mediolanum Verbanus Nel settore occidentale, Mediolanum, in epoca tardo-imperiale, svolse un'importante funzione strategica come nodo stradale. Fra le strade minori c'era la Mediolanum Verbanus, che partiva in Via Meraviglia a Milano e terminava a stazione l'antica Angera sul Lago Maggiore, consentendo ai viaggiatori di raggiungere la vicina Svizzera. Quelle strade elastricate erano costruite per consentire il transito dei viandanti, delle merci e dei cariaggi al seguito delle legioni militare. Ad ogni miglio romano c'era una torre di guardia e ogni dieci miglia una stazione per il cambio dei cavalli e per la sosta dei viaggiatori. L'antica strada iniziava a Milano e costeggiando il corso dell'Olona raggiungeva la prima stazione per il cambio dei cavalli situata in località detto Pero. Poi si transitava da Raude, che sarebbe Rò, villaggio di origine galleca, e in successione nervianum, nerviano, paravellinus, paraviago, legnanum, legnano. Poi arrivava alla cascina del buon Gesù, l'attuale Castellanza, seconda stazione per il cambio dei cavalli. Sfiorava al borgo di Bustarsizio e arrivava a Galarate, centro di chiara origine gallica. Poi la romana Somma Lombardo, costruita su un'altura e sede di un'altra stazione per il cambio dei cavalli. Attraversava poi Sesto Calende, anticamente sede di un importante mercato che avveniva sei giorni prima dell'inizio del mese, da cui il nome Sextum Calendarum. e infine raggiungeva il porto lacustre di Stationa, Angera. La strada romana Domodossola-Gravellona Navigando il lago Maggiore i viaggiatori avevano due possibilità. Raggiungere la Svestra a Locarno oppure approdare il porticciolo di Ferriolo e incamminarsi lungo l'antico tracciato romano che da Gravellona-Toce, il cui toponimo deriva dalla Grava, cioè Frana, staccatasi dalla montagna sovrastante, che conduceva sino a Domodossola, il centro più importante della valle. L'antica Oscela, fondata in epoca preromana dei Leponzi e fu successivamente nominata in epoca romana Domus Ossulae ed elevata a comune. Caduto l'impero, subì l'invasione dei barbari, gli Unni, i Goti, i Franchi dell'Ordine di Carlomagno e infine fu sottomessa al potere dei Vescovi di Novara, che già negli anni Mille possedevano un castello presso la chiesa di San Protasio. Da questa città si diramavano dei sentieri rastricati provenienti dalle valli circostanti, mentre una strada realizzata in epoca romana la collegava a Gravellona-Toce, incrocio con altre strade provenienti da Milano e Novara. La prima seguiva il tracciato lungo il lago Maggiore, la seconda il lago D'Orta. In prossimità di Villa Dossola un sentiero la collegava con la valle Antrona e con l'omonimo Passo Alpino e a piedi Mulera un altro sentiero della valle Anzasca dominata dal massiccio del Monte Rosa e dal passo del Monte Moro. Ma poco più avanti, sulla parte sinistra della toce, si incontrava la Massone di Vogonia, altro importantissimo centro dove era in funzione un traghetto e un porto. La presenza di questa strada è stata accertata dal ritrovamento di un epigrafe del 196 d.C. e la sua importanza è testimoniata da resti di rastricato ritrovati lungo un tracciato parallelo dell'attuale Ornavasso-Gravellona. Il percorso proseguiva toccando un altro sito di notevole importanza evidenziato dalle due necropoli di San Bernardo e di Impersona presso la punta del Migiandone, la prima di 181 tombe e la seconda di 165. Passata sulla sponda sinistra della toce, la strada raggiungeva Mergozzo, la cui posizione geografica in prossimità del lago ha indubbiamente favorito l'insediamento umano. Questo sito offre una documentazione archeologica che va dal Neolitico finale sino alla fine dell'Impero Romano. Infine la strada arrivava a Gravellona, importante punto d'incontro con le vie provenienti da Novara e da Milano. La strada statale 33 e Galleria del Sempione Il primo progetto relativo al tratto ferroviario Briga-Domodossola e in particolare quello concernente la Galleria del Sempione di 19.803 metri a doppio binario, la più lunga del mondo, risale al 1657 e fu elaborato dagli ingegneri Venez e Clot. a seguito di questa prima ipotesi fra il 1857 e il 1893 furono poi presentati una trentina di progetti fra cui quello di Lommel del 1864, Favre e Clot del 1875 e Meyer nel 1881 che prospettavano soluzioni diverse. Infine, nel 1891 l'ingegner Du Mour presentò al Consiglio federale svizzero l'elaborato definitivo che poteva considerarsi il compendio di parte dei precedenti. Mentre la Confederazione approvava uno stanziamento di 93 milioni di franchi il governo italiano interpellato per la collaborazione indispensabile alla realizzazione dell'opera non era però in grado per ragioni di politica interna di dare una risposta positiva sottraendosi alla trattativa. La creazione di un consorzio stimolato dalla ferrovia Giura-Sempione e del quale facevano parte imprese ditte svizzero-tedesche oltre a concretizzare l'idea progettuale portò un'innovazione assoluta proponendo lo scavo di due gallerie indipendenti una per ciascuna via di corsa distanti fra di loro 17 metri circa. Inoltre si sarebbero dovuti scavare due conicoli da allargare in tempi successivi alla misura definitiva della galleria luce verde quindi all'inizio dei lavori dopo una misurazione a triangolazione dell'asse del tunnel del maggio del 1898 l'impresa iniziò anche su un solo conicolo con estesi cantieri nelle zone antistanti dei futuri portali nord e sud dell'entrata della galleria per le necessità di numerosi macchinari in particolare dinamo e compressori furono realizzati i canali di derivazione delle acque del Rodano a nord e del Diveria a sud l'idea di realizzare due gallerie indipendenti risultò vincente quando si trattò di affrontare difficoltà come la pressione della montagna o venute d'acqua ad alta temperatura ci si ritrovò a combattere contro fenomeni praticamente dimezzati seppure in senso relativo la via napoleonica fra tutte le vie tradizionali di transito e di commercio attraverso le Alpi fu proprio il sempione ad acquisire solo alla fine del 1700 per conveniente puramente militari una posizione di privilegio nella moderna storia del traffico dopo che Napoleone il 6 maggio 1800 ebbe attraversato con 60.000 uomini il Gran San Bernardo e un suo generale con 10.000 uomini il sempione ancora non era stato deciso quale dei due sentieri sarebbe stato ampliato a strada carrozzabile la decisione a favore del sempione fu presa il 7 settembre 1800 in parte per considerazioni traffico geografiche con una via diretta fra Parigi e Milano in parte per il suo punto culminante relativamente basso Napoleone ordinò quindi la costruzione di una carrozzabile che attraversasse il sempione generosamente concepita per le esigenze militari cioè pour faire passer le canon nel 1801 affrontando i preparativi per la costruzione della strada Napoleone offrì al governo ilvetico quale baratto la valle del Frick ceduta all'Austria pretendendo in cambio il vallese quale presso della sua neutralità non risolvendosi la dieta con una decisione in merito Napoleone Buonaparte il 16 maggio 1802 decise la questione a modo suo dichiarò il vallese repubblica indipendente e la fece occupare del generale Torreau con tre battaglioni in fanteria in pratica il vallese diventò un departement dell'impero francese trascorsero un paio d'anni prima di vedere approvato definitivamente il progetto esecutivo ma al sopraggiungere dell'inverno del 1802 erano state realizzate soltanto poche centinaia di metri di strada solo nella primavera del 1803 successivamente a un ennesimo decreto napoleonico che esonerava i tendici francesi nel versante sud le mansioni furono affedate ai tecnici italiani coordinati dall'ingegnere Giannella e obbligava i vallesani a fornire personale nel versante nord le cose migliorarono notevolmente e i lavori presero un avvio favorevole lungo tutto il percorso furono apportate delle modifiche a volte sostanziali come a Legnano e a San Vitore Olona dove fu realizzata una traversa evitando di tagliare la parte bassa del paese